Buongiorno a tutti, oggi è il 21 marzo, questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre in tutta la regione Marche. Allora buongiorno, questa è la rassegna che però si occupa dei quotidiani, il resto del carino Corriere Adriatico della provincia di Pesero e Urbino, quindi non leggeremo per anche questione di spazio, di tempo i giornali delle altre province. Ci limitiamo a quella di Pesero e Urbino come facciamo ormai da 11 anni. Cominciamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito, oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Beatrice Benedetta Cambiago Trassinello. Il sole è sorto alle 6.08 e tramonterà alle 18.22. Guardiamo il tempo per la giornata di oggi, oggi è il primo giorno di primavera nel calendario, 21 di marzo, anche se l'equinozio mi pare fosse ieri. Insomma vabbè, allora parzialmente nuvoloso o nuvoloso c'è la nebbia questa mattina alle 7.30, però purtroppo che però andrà a dissolversi nel corso della giornata, man mano che le temperature che rispetto a ieri non avranno variazioni di rilievo aumenteranno e dunque la nebbia si dissolverà. Per domani, mercoledì 22 di marzo, cielo parzialmente nuvoloso per nuvole stratificate, le temperature sono in rilievo aumento nei valori massimi. Poi per invece la giornata di giovedì 23 marzo avremo ancora cielo parzialmente nuvoloso, ancora nuvole stratificate, dunque non avremo cielo sereno come è successo nei giorni scorsi. Le temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli a sud orientali lungo la costa. Probabili condizioni di tempo stabile sulle Marche fino alla giornata di sabato. E poi vedremo insomma quello che succederà. C'è della cronaca questa mattina, ancora cronaca con furti e quant'altro, ma i giornali, per esempio il Corriere Adriatico torna e qui lo fa sulla pagina di Senigallia. Eccola qua. La pagina di Senigallia. L'incidente, l'incidente mortale avvenuto l'altro giorno, domenica, dove ha perso la vita questo imprenditore che è deceduto, così almeno quanto risulta dall'autopsia, deceduto sul colpo. L'auto che a un certo punto, questa Range Rover si è capotata, è andata a finire contro un muretto appunto e ha preso fuoco. Dentro la macchina c'era anche una ragazzina di 14 anni, la figlia di Vittorio Mallucci, di 56 anni, che diceva è morto sul colpo all'interno del suo SUV. L'autopsia dice che probabilmente era già morto Vittorio Mallucci, mentre la figlia cercava di chiamarlo senza ricevere alcuna risposta. Schiacciato dal tetto dell'auto, dopo che si era ribaltata, era rimasto piegato con il busto in avanti. Domani nel pomeriggio rientrerà dall'India la figlia maggiore del manager torinese. Guardate com'era ridotta l'automobile. Siamo intorno alle 15.30 di domenica pomeriggio. Padre e figlia erano insieme, tant'è che il titolo dice sognava di stare di più con suo papà. Il giorno della festa lo ha visto morire, la ragazzina era ferita e intossicata, ha tentato disperatamente di salvarlo. è ricoverata lei al torrette, c'è la madre. Dopo lo schianto è riuscita la ragazzina a raggiungere un agriturismo e ad allertare i soccorsi che purtroppo quando sono arrivati erano ormai inutili. Giovedì mattina saranno invece celebrati i funerali a Ostra, nel cui cimitero c'è la tomba di famiglia. E quindi oggi, ieri anzi, è stato il giorno del dolore. Le altre pagine, andiamo sempre sul Corriere Adriatico, la pagina principale. Aumentano le famiglie sul lastrico, meno aiuti, crescono le richieste per affitti e bollette, ma la CGL accusa un terzo delle risorse. Sempre più famiglie a Pesaro chiedono aiuto per pagare affitti e utenze domestiche, ma i tagli nazionali e regionali alle politiche e sociali si fanno sempre più consistenti, con inevitabili ricadute a livello locale. Il sindacato accusa per il 2017 la Regione Marche ha messo a disposizione quasi un terzo delle risorse rispetto al 2015. Declassate, anzi no, scoppia il caso. Provincia senza un euro, si rivolgono alle procure. Tagli insostenibili, impossibile far fronte alle emergenze. Poi c'è sempre sulle pagine interne del Corriere la vittoria del Fano, dell'Alma Juventus Fano a Parma, entra di diritto nella storia Granata. Vedete l'allenatore che sta compiendo un mezzo miracolo con il Fano. Pompa di benzina distrutta, rubata due casse al self-service. Allora entriamo nelle pagine interne e andiamo a vedere subito come hanno ridotto appunto il self-service del distributore di benzina Kuwait. Siamo a Monteporzio, guardate le fotografie. Hanno praticamente devastato tutto quanto. Questa è una delle due colonnine del self-service che sono state divelte da una pala meccanica. Perché cosa fanno i malviventi? Questa banda di ladri praticamente vanno a rubare queste pale meccaniche da qualche parte e poi entrano in azione, collegano, attaccano con del materiale, cateni, insomma qualcosa del genere, attaccano questi self-service e poi li stradicano. E tutto succede però in pochissimi minuti perché poi chiaramente ci sono gli allarmi che suonano, quindi il tempo a disposizione per i ladri è pochissimo. È successo in questo caso la notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 2.30, nel distributore situato a Castelvecchio di Monteporzio, lungo la strada 424 della Valcesano. Tre malviventi, incappucciati, hanno prima rubato una pala meccanica, sembra in una impresa edile che si trova a poca distanza, quindi sono entrati in azione passando per un campo nei pressi del distributore. Quindi tutto studiato comunque nei minimi particolari. E questo è il risultato, risultato analogo a tanti altri, comunque anche altri colpi messi a segno nella nostra provincia, nella provincia di Pesero e Urbino. Allora, andiamo invece adesso sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. In 50 ospitati in città, 50 migranti verranno ospitati, si cerca una sede per i migranti di minore età. La cooperativa Labirinto segue l'accoglienza, l'integrazione attuata con diversi soggetti. Il nostro piano, dice Simona Giomi, presidente della Labirinto, avrebbe potuto rigenerare tutta Ponte Sasso e fa riferimento alla battaglia dei residenti di Ponte Sasso che non hanno voluto l'arrivo dei 30 e passa 32 migranti minorenni. Tre centri sono stati allestiti a Ranco Sambaccio, Belgatto e Magliano. Sotto invece case popolari, priorità alle famiglie fanesi, mozione di Forza Italia per chiedere alla Regione di modificare la legge. E questa è la pagina di Fano. L'altra invece, niente economie di spesa, a Fano non c'è innovazione. La CISL Marche contesta la convenzione con Cartoceto e Monteciccardo per quanto riguarda i vigili urbani. Come già fece Aguzzi, la Giunta Seri non predispone i piani di razionalizzazione. Poi impediamo la soppressione della Polstrada. I pentastellati chiedono l'impegno del Sindaco e offrono collaborazione. Andiamo avanti con le altre pagine, sempre dal Corriere Adriatico. Ci sono altri due comuni che vogliono staccarsi dalla Regione Marche e vogliono andare in Romagna. La secessione BIS però lacce del Partito Democratico. Alla Camera si discute su Sassofeltrio e Montecopiolo. La senatrice Morani dice io sono contraria da sempre. Arlotti invece spinge per avanti tutta. Confcommercio, vedete qua il suo dirittore Amerigo Varotti, con Commercio Richiama, i politici non sottovalutino questo passaggio. E poi sotto invece a Urbino cedono le finestre pompiere alla scuola del libro in fissi intaccati dall'usura, necessario un intervento per metterli in sicurezza. Questa è la pagina di Urbino. Poi invece la cronaca da Ostravetere. Dateci nostro figlio, maestre picchiate. Sciocca Ostravetere, la coppia nigeriana a cui è stata tolta la patria potestà va a riprendersi il bambino a scuola. Le insegnanti sono state schiaffeggiate davanti ai bambini che raccontano poi tutto a casa. Alcuni di loro sono scoppiati poi in lacrime. Dunque, maestre d'asilo prese a schiaffi, ieri mattina da una coppia di rifugiati. È accaduto nella scuola di infanzia Luca Lombardi da soccorso. I coniugi nigeriani sono accolti come rifugiati politici in una struttura ricettiva di Ostravetere. I servizi sociali hanno tolto la patria potestà del figlio di sei anni. Lei troppo violenta. Lui spesso ubriaco. A farne le spese era sempre il minore che è stato dunque affidato ai servizi sociali. A centro pagina invece vedete l'auto che è finita fuori strada si è rovesciata a paura nella notte. All'interno c'era un uomo di 46 anni. Allora, adesso la Valle del Cesano. Invece Papa Fiscia anche ha la mensa di Pergola gestita in proprio il pesce dell'Adriatico servito agli alunni. Continui investimenti e il sindaco Baldelli dice noi ci teniamo ai piccoli e ai bambini. Mentre a Pesaro il mare corrode la passeggiata. Ecco la ruggine come cartolina. Vento, acqua e salsedine hanno danneggiato la balaustra nell'area tra il moletto e la palla. Vedete, l'abbiamo cerchiata di rosso, la ruggine che se ormai è venuta fuori ed è in bella vista insomma bisognerebbe dargli probabilmente una sistemata in vista anche dell'arrivo della bella stagione. Andiamo sulla pagina del resto del Carlino invece con la copertina tutta dedicata al FAI che va in cripta. Presentate le giornate di primavera. La novità nei sotterranei della chiesa di San Decenzio. Il programma del weekend. Poi c'è il pungiglione in prima pagina. Dov'è finito Luca Ceriscioli? Va bene il terremoto che ha monopolizzato i problemi del Presidente? Va bene il disastro subito con Banca Marche? Ma un'occhiata al nord della regione, quindi la provincia di Pesurbino, è forse necessaria e anche presto, scrive il Carlino. E allora entriamo nelle pagine interne. Vediamo subito la prima, eccola qua. Non raccoglie gli escrementi del cane e dunque viene picchiata. Uno sconosciuto l'ha insultata e strattonata in via Galilei, presentata una denuncia. La vittima è stata costretta ad andare al pronto soccorso per medicarsi e ha avuto sette giorni di prognosi. Poi sotto ancora, vedete, si introducono in casa di un anziano e rubano 2.000 euro, una coppia di stinte nazioni in via Petruccia, a Pesaro chiedevano informazioni su un appartamento, anzi su appartamenti da vendere. E poi a Torraccia ancora raffiche di furti, ma mentre le famiglie dormono. Siamo a Fano invece adesso per il Consiglio liquido, nel senso che c'è gente che entra e che viene. In questo caso vanno via Santorelli e Aguzzi. Mi dispiace lasciare l'impegno politico, dice Alberto Santorelli, non era più conciliabile però con il mio lavoro, non ero in consiglio per occupare un posto, ma per occuparmi di qualcosa. E dunque al posto di Santorelli arriverà Gianluca Ilari, 35 anni, che è ingegnere. Mentre l'ex sindaco Guzzi, questo si sapeva perché ormai è candidato ufficialmente a diventare sindaco, o meglio, si candida a sindaco di Colli al Metauro. E dunque Stefano Guzzi lascerà il posto a Luca Serfilippi, il primo dei non eletti nella sua lista civica. Anche lui, Serfilippi, assessore nella seconda giunta a Guzzi. E dunque tutto questo però avverrà intorno al 28 di marzo. Poi furti a raffiche a Cagli, è preso il capo, è un albanese di 33 anni, i carabinieri lo ritengono il capo della banda di malviventi, che da novembre a qualche giorno fa ha imperversato anche tra Cagli, Acqualagna, Piobico, Urbani, Urbino e Apecchio, mettendo a segno almeno, pensate, una trentina di furti. E poi il pianeta sanità con, come avviene ogni anno, i dati pubblicati di chi guadagna di più tra i dottori, tra i dirigenti, tra i 562 dirigenti ospedalieri dell'azienda Marche Nord, sono come sempre i camici bianchi, quindi i dottori a giocare il ruolo di principali percettori di alti redditi. Insomma, il primo, lo vedete, il Carlino lo mette in fotografia, è il primario di urologia Valerio Beatrici, che è primo assoluto, con un imponibile di 295 mila euro, di cui ben 176 riconducibili all'attività di libero professionista. Dunque, poi ci sono tutti gli altri, c'è la lista che potrete leggere sul giornale di questa mattina. Poi da Pesaro si discute invece sulla decisione di non richiedere l'esercito per l'operazione Strade Sicure anche quest'anno. Meglio poliziotti di quartiere, l'esercito va bene a Roma, dice Pierpaolo Frega del SILP, CGL, che dice contrario, si dice contrario ai soldati di pattuglia. Per il rappresentante sindacale è meglio spendere i soldi per assumere nuovo personale. E poi c'è una curiosità, guardate questa fotografia, questo selfie, adesso van di moda, insomma questi selfie tra Luca Paolini della Lega Nord e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Partito Democratico. Perché questo selfie? Lo scrive il Carlino questa mattina, c'è chi si stupisce di questa fotografia. Paolini dice io non ce l'ho con Matteo Ricci, che è una persona simpatica, contesto il suo ruolo, tanto che gli ho detto che l'avrei convertito alla Lega. Ma ci sono i dettagli perché c'è anche qualcuno che l'ha criticato, come per esempio il SILP appunto della polizia. Ok, noi ci fermiamo qua, non c'è altro per quanto riguarda la rassegna stampa. Vi ricordo che stasera c'è il telegiornale 20 e 30 e questo è il numero di telefono il quale potete continuare e lo fate davvero sempre di più, ogni giorno di più, in tanti, da casa, da fuori, dalle strade dove vi trovate. Ecco, mandateci le vostre segnalazioni al 338 49 68 250. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video.